PaperFact oppone le proprie basi sul lavoro che è stato fatto lungo 45 anni da un'azienda di famiglia che era il centro di restauro di materiale cartascio e membranascio. Lì questo composto a base di microfibre di cellulosa è stato messo a punto e sperimentato. Lo definiamo un'evoluzione tecnologica della cartapesta. L'ispirazione di PaperFact si basa fondamentalmente su due elementi importanti. Uno è l'osservazione e lo studio degli elementi naturali, quindi della pietra, i marmi, le pietre calcare, i muschi, i licheni e dall'altro è l'architettura e il design contemporaneo. Infatti definisco oggi PaperFact un'azienda che si occupa di architettura materica. Utilizziamo pigmenti naturali. La varietà dei pattern, sia per la tipologia del processo che utilizziamo, sia per le caratteristiche tipiche del materiale, ha delle potenzialità infinite. Una volta che il materiale è essiccato ricorda quasi una pietra che proviene da una cava che non c'è. Gran parte della produzione si svolge a freddo, in un ciclo di essiccazione a circuito chiuso, quindi senza emissione nell'ambiente. E c'è una costante ricerca sulla tipologia di fibre che vengono utilizzate, quindi da foreste certificate, da fibre riciclate, da carta riciclata o prodotti post-consumer e post-industria. Il rapporto tra Bentley Home e Paper Factor è un rapporto che si basa sulla preziosità dei materiali attraverso un processo di sperimentazione, quindi di evoluzione, sull'unicità della lavorazione artigianale. Da qui abbiamo deciso di iniziare e raccontare una storia nuova. Grazie a tutti.